Il convento domenicano di San Marco a Firenze, importante realtà religiosa fiorentina attiva dal 400, dove hanno vissuto nel corso dei secoli tanti pensatori ed artisti, tra i quali il Beato Angelico, Savonarola, e nello scorso secolo anche il Sindaco Santo di Firenze, Giorgio Lapira, si avvia verso la chiusura. O meglio, i pochi frati domenicani che da sempre vivono nel convento saranno costretti a trasferirsi nel complesso di Santa Maria Novella, sempre a Firenze. La decisione arriva dall'ordine dei domenicani, a niente, sono valse le 18.000 firme raccolte per far restare nello storico luogo i fedeli. Qualcuno aveva parlato anche di un appello al Papa, poi smentito dai domenicani. I frati non fanno nessun appello a nessuno, anche in tutti questi anni in cui ci sono state ovviamente molte, anche delle proteste, chiamiamo così, usiamo questa parola, delle reazioni alle decisioni che sono state prese con varie modalità. La petizione delle firme, degli intellettuali che sono intervenuti e tante iniziative che sono state prese, sempre da altri che dimostrano quanto San Marco rappresenti, soprattutto per la città di Firenze, ma non soltanto per la città di Firenze perché è un convento conosciuto in tutto il mondo. Le attività della Basilica resteranno le stesse, così come per il museo. La biblioteca invece perderà la sua autonomia e diventerà un fondo collegato a quella di Santa Maria Novella. Nella Basilica continueranno tutte le attività pastorali e liturgiche e anche in San Marco le attività culturali. Noi cercheremo di portare avanti quello che fino ad ora è stato fatto e anche con altre iniziative nuove. L'unica cosa è che tutto questo verrà deciso, diciamo così, da...